Dopo due anni di pausa dovuti alla pandemia, parte questa settimana ad Agropoli il torneo internazionale di calcio giovanile Città di Agropoli, giunto quest'anno alla sua quarantesima edizione. A partire dall'11 aprile migliaia di giovani con tecnici, dirigenti e familiari provenienti da quattro nazioni e sette regioni italiane daranno vita ad un carosello di colori, lingue, religioni e scuole di pensiero diverse, pronte a mescolarsi per scambiarsi esperienze, rinnovare la passione per lo sport e dare un calcio a tutti i problemi che si stanno vivendo in questi mesi in Europa. Giovedì 14 aprile è previsto il momento più suggestivo della Kermess sportiva, la cerimonia di presentazione che vedrà sfilare tutte le formazioni iscritte al torneo. L'appuntamento dunque è alle ore 14.30 presso lo stadio Raffaele Guariglia ad Agropoli.